Io sono molto orgoglioso di questa manovra economica, perché abbiamo già afferrato degli obiettivi ben precisi e a differenza di quello che viene anche pubblicamente declamato, questa è una manovra economica che non introduce nuove tasse a scapito dei cittadini. È una manovra fortemente redistributiva, pur in un quadro di finanza pubblica così complesso. Se noi leggiamo un po' la propaganda che circola, vediamo che è una manovra che introduce nuove tasse, nuove tasse ci viene detto per le merendine, falso, che introduce nuove tasse per il gasolio, falso, che introduce nuove tasse per la benzina, falso, che mette una tassazione sul contante, falso, però vedete se si parla con i cittadini in questo momento questa è la narrazione che prevale. Siamo in un contesto in cui se uno è spudorato nel raccontare le bugie non interessa nessuno, più si insiste, più si incalza e più questa narrazione prevale. In realtà questa è una manovra, dicevo, fortemente redistributiva, perché come è stato anticipato è una manovra sì che introduce delle tasse, ma introduce delle tasse sulla plastica, introduce delle tasse sui tabacchi, introduce nuove tasse per i colossi del web digitale, ma opera una forte redistribuzione per tutte le famiglie, eliminiamo i super ticket, introduciamo più soldi a beneficio delle famiglie, soprattutto quelle numerose, offriamo la possibilità alle famiglie meno abbienti di poter portare i loro figli negli asili nido, come è stato ricordato. Ancora, diamo più soldi in busta paga ai lavoratori, che da qualche anno attendono il rinnovo contrattuale. Potenziamo addirittura in un contesto già così difficile un pilastro del nostro futuro, potenziamo la ricerca.